Entra nel vivo del cantiere la demolizione e la ricostruzione dei palazzi residenziali privati trinchese panoramico di Chieti, le cui 67 famiglie furono sgomberate nel 2017 per motivi di staticità. Ad annunciarlo il sindaco Diego Ferrara con i suoi amministratori l'intervento che sarà completato nel 2023. La buona novità è che questi palazzi, il trinchese e il panoramico, saranno demoliti e ricostruiti secondo una tempistica precisa che ci è stata data dall'ingegner di primi e che sarà il capo del cantiere. Per quanto riguarda il trinchese ricordo che ci fu un'ordinanza di sgombero da parte del mio predecessore, il sindaco Umberto Di Primio, per i gravi problemi di staticità del palazzo e quindi questi cittadini in tutto tra il trinchese e il panoramico 67 famiglie dovettero abbandonare le loro abitazioni e quindi trovarne delle altre. Dopo tanti anni siamo riusciti a far partire il cantiere con una prima fase che durerà fino a fine anno 2021 di spogliazione dei palazzi. Poi inizierà la demolizione vera e propria che sarà fatta in piena sicurezza per gli abitanti circostanti e che dovrebbe durare fino a tutto il 2022 e poi ci sarà la fase di ricostruzione per cui i condomini dovrebbero riprendere possesso delle loro abitazioni del tutto nuove e del tutto aderenti alle norme antisismiche ed ecologiche nell'arco del 2023. Per quanto riguarda i fondi? I fondi sono fondi privati provenienti dall'eco bonus e dal bonus sismico ammontano a 14 milioni di euro e per quanto riguarda il comune non ci sarà nessun onere finanziario perché questi 14 milioni sono e provengono da fondi privati.